Dio ci ha donato le parole Innanzitutto In modo che con le parole Possiamo fare, creare Ma Dio aspetta che sia tu iniziare A parlare E a dire quello che Dice Dio E qui c'è la vittoria E Vediamo Il primo capitolo L'ottavo verso Dio dice Che il libro della legge Non si allontani dalla tua bocca Ma studiala giorno e notte In modo che si realizzi tutto Per esattezza quello che c'è scritto Poi c'è due punti E viene detto Allora tu sarai di successo Nei tuoi percorsi E ti comporterai E ti comporterai Blagorazumno Con Intelletto e ragione Stop, 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 stop Facciamo un attimo una pausa Avete perso tutto Avete perso tutto E lui dice Quindi dove ci sta la tua gamba E anche la tua terra Подождite Io повторio Io ripeto Che il libro non si stacchi Dalla tua bocca E dalle orecchie tue E le orecchie c'è scritto Non vi sento Le orecchie Dalla tua bocca Ma che segreto è questo Che segreto è Mille predicatori Avete sentito Ma Dio aspetta Che sia tu iniziare A parlare E a dire Quello che Dice Dio Amen Se Dio Dice che sono nuova creatura In Gesù Cristo Allora nella quarta dimensione Mi vedo Come nuova creazione Dice ma io pastore Sono dipendente Io sono una persona Che può cadere Ma Dio dice Da ne adhodi Cia книga Zacona A tu Tu devi vedere E dire Vedere E parlare Vedere E parlare Chiunque mi sta ascoltando O no Quando tu parli E dici quello che dice Dio E dici quello che dice Dio E si inizia a realizzare Ora facciamo un esempio Adesso venite a sapere qualcosa di nuovo Dio ci ha regalato A tutti noi Chiunque sia anche a casa Quelli presenti Tutti proprio Ci sono centinaia di persone Che ascoltano E pensano Cosa ci ha regalato Ci ha donato le parole Per poter parlare E' vero o no? Dice Non è così Dio ci ha donato le parole Innanzitutto In modo che con le parole Noi Possiamo fare Creare Pode Con le parole di Dio Queόσkol Quiost Secchi Alleluia Eci seeing Solo questi Applausi con la parola di Dio noi siamo stati creati in somiglianza e Gesù ha detto dovete avere fede in Dio e fate la stessa cosa in modo che questo libro non si allontani dalla tua bocca il dottor ti dice una diagnosi e tu vedi con queste ferite inizia a vederti sano e inizia a creare con la parola e a dire e a dire io sono guarito io sono guarito con le ferite di Gesù Cristo io sono guarito io sono guarito e avete dei debiti enormi così volete cambiare questa situazione o no? per questo bisogna cominciare a pensare dovete cominciare a creare con la parola le parole sono date in primo luogo perché tu crei il tuo giorno di domani il tuo futuro e se tu dici che domani sarà tutto bene se tu dici che andrà solo meglio e meglio meglio e meglio da me sarà tutto meglio e meglio andrà tutto in meglio solo meglio e meglio non sempre meglio LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE! LUCCHE E LUCCHE!